omicidio a fabriano 63enne ucciso dalla compagna carabinieri in un anno 7.100 reati nella provincia di pesaro urbino dopo ancona il centro destra punta la conquista di pesaro ancora mal tempo dopo le frane tornano ora gli allagamenti tutela della pesca il ministro lollo brigida al brodetto ben ritrovati al nostro telegiornale oggi lunedì 5 giugno apriamo questa edizione con una notizia che riguarda tutta la regione marche infatti andiamo a parlare dell'omicidio che si è consumato nel weekend proprio nella nostra regione a fabriano è stata arrestata ieri la 49enne alessandra galea accusata di aver ucciso il compagno fausto baldoni di 63 anni il delitto è avvenuto al termine di una lite in cui secondo le indagini dei carabinieri la donna si sarebbe scagliata contro il convivente colpendolo ripetutamente alla testa con una bajur fino a lasciarlo senza vita secondo i parenti della vittima baldoni temeva per la sua vita e spesso si barricava in casa di fronte agli scatti d'ira della donna che è stata arrestata dai carabinieri per omicidio volontario la galea è stata ora rinchiusa nel carcere pesarese di villa fastigi dove domani ci sarà l'udienza di convalida dell'arresto inquietante particolare il fatto che alessandra galea è la sorella gemella di consuelo galea che nove anni fa uccise la madre delle due donne colpendola alla testa con un'arma giocattolo le tematiche della criminalità nel nostro territorio sono state al centro del 209esimo anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri celebrata questa mattina presso la caserma pesarese robusto antonelli allora andiamo a vedere in questo servizio le celebrazioni ma anche un'analisi dettagliata dei reati nella provincia di pesare urbino 209 anni di carabinieri come ogni 5 giugno il comando provinciale di pesare urbino si è riunito nella solenne commemorazione dell'annuale di fondazione dell'arma radunando nella caserma robusto antonelli autorità civile e militari nella trasversale riconoscenza al valore al merito dell'impegno incessante dei carabinieri un impegno tradotto anche questa mattina in tanti encomi ad imprese di coraggio e abnegazione dalla lotta alla criminalità ai salvataggi di civili come quelli più volte ripetuti durante le calamità dell'ultimo anno encomi non a caso tributati proprio dai sindaci dei comuni provinciali colpiti dalle alluvioni si vorrebbe evitare che ci succedesse nel senso intervenire prima per risolvere i problemi prima che si possano creare però logicamente come è avvenuto sabato l'intervento di sgombero di un rifugio sul monte catria non c'è la possibilità e quindi con tutte le forze che ci sono in campo logicamente come può essere stato sabato maggio in due occasioni a settembre dell'anno scorso tutte quelle forze che siano in campo nell'immediato che come ho detto nel corso del discorso sono i momenti più importanti le prime ore dall'evento per poter portare immediatamente soccorso a chi ha bisogno che logicamente sono quelle persone che sono più spaventate dalla situazione una cerimonia che ha confermato l'avvicinanza dell'arma ai suoi territori suscitando la sensibilità anche delle più giovani generazioni vedi gli alunni della scuola primaria pesarese cantarini che hanno donato elaborati e attestati di stima i carabinieri spero che nella semplicità possa aver dimostrato la nostra diciamo nostro attaccamento alle persone anche con questi riconoscimenti militari consegnati proprio dai sindaci dai loro sindaci spero che sia un po più significativo rispetto a quello che viene fatto normalmente poi la partecipazione dei bambini è sempre gradita non posso che ringraziare il comandante provinciale dei carabinieri e tutti i militari anche di Pesaro per l'attività che svolgono ogni giorno per la vicinanza per il supporto per l'attenzione ai territori e per le proposte e le soluzioni sempre efficaci commemorazione ma anche bilancio di un'attività che in 12 mesi ha visto i carabinieri procedere per 7.102 reati ovvero l'80% dei reati commessi in provincia autori dei reati individuati in 2.100 casi con 181 arresti furti e rapine rappresentano il 35% dei reati commessi in un territorio che stiene sott'occhio anche la crescita dei casi di violenza di genere e la tutela di territorio e ambiente Nell'ultimo anno parte diciamo quella che può essere il traffico di droga ma di piccolo livello non di grosso traffico che provenienza da fuori abbiamo logicamente un grande incremento una grande situazione particolare per quel che riguarda i codici rossi quindi logicamente violenza sulle donne e violenza di genere che logicamente dove la conflittualità comunque all'interno delle famiglie e all'esterno è aumentata Sono rispetto all'anno precedente difficile fare confronti perché era ancora un anno quasi pandemico quindi ancora difficile quindi rispetto al 2019 che è l'anno prepandemia i reati sono in calo comunque Come morazioni dell'anniversario dei carabinieri che seguono di pochi giorni quelli della festa della Repubblica celebrata venerdì scorso in piazza del popolo a Pesaro e allora vi rivediamo immagini e contenuti emersi in questa partecipata ricorrenza che potrete poi approfondire in uno speciale che trasmetteremo giovedì 8 giugno alle ore 20 Io ringrazio veramente tutti i cittadini di Pesaro ma di tutta la provincia perché hanno partecipato con entusiasmo e l'entusiasmo si è sentito ed è stata veramente una festa della Repubblica partecipata da tutti Eccellenza la mia veneranda età ho partecipato a tante feste della Repubblica ma un discorso così mi permetta tra virgolette da madre di famiglia e quasi cittadina pesarese da tantissimi decenni non ce l'avevamo mai ascoltato Guardi ho voluto ci tenevo molto a sottolineare come ogni istituzione attui i principi fondamentali della Costituzione Quello che ho cercato di fare è rimanendo sempre poi sul piano dell'umanità e quindi ringraziando anche umanamente le persone che a me sono più vicine un discorso sia giuridico se vogliamo ma anche proprio umano È stata una cerimonia organizzata veramente da tanti enti, associazioni ringrazio di nuovo il comune di Pesaro, il comune di Urbino, la provincia perché hanno fatto un lavorone ci sono stati sempre vicini, ringrazio tutti La festa della Repubblica è una festa importante per il nostro paese perché per la prima volta votarono tutti, votarono le donne e scelsero la Repubblica al posto della monarchia dopo la liberazione, la guerra al nazifascismo e quindi è un momento fondamentale e da lì poi nacque la Costituente che ha portato alla Costituzione quindi è stato un passaggio fondamentale della nostra identità nazionale e credo che a maggior ragione in questo momento vada valorizzata come la prefetta giustamente ha voluto fare in grande quest'anno nella piazza di Pesaro quindi mai dimenticarci che la Repubblica è stata la prima scelta democratica verso la libertà, l'uguaglianza e verso un sistema politico istituzionale che dà il potere al popolo di decidere e questo ovviamente è un dato fondamentale che non dobbiamo mai dare per acquisito per sempre Signor Sindaco, ha fatto un discorso molto trasversale dal punto di vista delle quote rosa ci teneva proprio a sottolineare questa partecipazione al femminile non solo da parte della prefetta ma proprio di tante forze politiche oggigiorno Il 2 giugno del 1946 per la prima volta le donne votarono Sembra incredibile, ma prima non avevano alcun diritto nella vita politica pubblica Sembra incredibile E oggi dopo tanti anni sono stati fatti passi avanti notevoli abbiamo una Presidente del Consiglio per la prima volta donna la Cappa del principale portito d'opposizione donna la prefetta donna abbiamo fatto dei passi avanti ma ancora c'è tanto da fare perché anche ieri abbiamo assistito a uno all'ennesimo femminicidio tremendo e ogni tre giorni viene ucciso una donna per una mentalità maschilista proprietaria nei confronti della donna che è un male della nostra società che ancora dobbiamo sconfiggere E' stato bello che il Prefetto abbia voluto portare questa festa in piazza in cui c'è stata una grande partecipazione come speravamo c'è stata di cittadini e di sindaci ed è stata una festa del paese per il paese Per me anche oggi questa giornata il 2 giugno è un esempio di molto positivo grazie a iniziativa in primo luogo della signora Prefetto direi che è stata un esempio di visibilità di tutto il bello che c'è nel territorio è una mattinata di festa la festa della Repubblica che ha messo in evidenza davvero tutte le risorse umane le risorse di impegno sia a livello di istituzioni che a livello anche di associazioni o di privati cittadini che tessono quotidianamente questa trama di una comunità che è una comunità coesa, una comunità solidale L'attenzione ai giovani credo che significa preparare il futuro e guardare al futuro con fiducia e con speranza e quindi abbiamo bisogno di dedicare a loro una particolare attenzione questa mattinata ha manifestato questa attenzione i scout ma non solo le scuole l'orchestra dei ragazzi, dei bambini insomma quindi bella mattinata che ci fa bene e ci permette di guardare avanti con fiducia Ed ora passiamo alla politica dopo Ancona anche per Pesaro i tempi sembrano maturi per un cambio netto al governo della città ne sono convinti i consiglieri comunali di centrodestra che hanno ribadito la forte motivazione e responsabilità in vista delle elezioni amministrative del 2024 Convinti di essere un'alternativa concreta e credibile per il governo della città di Pesaro Ad una manciata di giorni dalla vittoria elettorale ad Ancona di Daniele Silvetti che ha portato il ribaltone nel colore dell'amministrazione del capoluogo d'orico tutti i consiglieri comunali pesaresi di centrodestra sostenuti nell'occasione anche dal consigliere regionale Nicola Baiocchi si sono riuniti in una conferenza volta a ribadire l'unità di intenti la volontà di ascolto delle esigenze del territorio e la responsabilità verso tempi quanto mai maturi al cambio di governo in città dopo i due mandati di Matteo Ricci Laddove il centrodestra si presenta unito non solo è in grado di vincere ma dà dimostrazione di saper governare io credo che il filo diretto che in questi anni si sta costruendo tra le città a guida centrodestra, le regioni a guida centrodestra e la nazione a guida centrodestra sia evidente finalmente anche nella nostra regione Marche guardate non è scontato avere un presidente del consiglio che il giorno prima è in grado di parlare davanti ai leader mondiali e il giorno dopo si rimbocca le maniche tra gli alluvionati dell'Emilia Romagna bene questo filo diretto, questo buon governo concreto noi lo vogliamo portare anche nella città di Pesaro una città in cui la sinistra per anni ha fatto una cosa soltanto ha offeso, ha offeso noi, ha offeso il centrodestra ci ha chiamati gli antipesaro, ci ha chiamati le destre in maniera quasi volgata cercando il disprezzo totale ebbene tutto questo evidentemente non porta i suoi frutti perché i cittadini hanno visto che è possibile cambiare passo e sinceramente tanti pesaresi ci chiedono se saremo in grado di ripetere il risultato di Ancona e io gliel'assicuro perché abbiamo una squadra che sta lavorando da tempo sui programmi e sulle problematiche della città e pensiamo di poter dare delle risposte concrete alle esigenze di Pesaro sentiamo un grande entusiasmo corrisposto ad un grande sentimento di responsabilità di costruire una proposta alternativa capace e credibile per la città capace di interpretare lo stesso sentimento di cambiamento e di discontinuità che si è registrato da Ancona ci sono delle analogie legate al fatto che sono due città governate solo da un sindaco dove è stato praticamente azzerato un contributo civico anche nei confronti di un governo cittadino in questo stesso sentimento noi vogliamo essere capaci invece di ascoltare la città e di sapere in qualche modo parlare a quelle forze del mondo civico associativo e corporativo delle varie associazioni costruendo una proposta che abbia nella concretezza nella credibilità il suo punto forte perché in questi anni il vero fallimento della Giunta Ricci è stato quello di non aver portato a realtà le tante promesse fatte dove tra realtà e promesse c'è una distanza davvero abissaria Cambiamo di nuovo argomento parliamo di maltempo un maltempo che è tornato ad accanirsi sul litorale pesarese dove sono cadute piogge battenti per gran parte di questo lunedì le immagini che vi mostriamo arrivano in tal senso da Fano dove nel primo pomeriggio si è registrata una bomba d'acqua che ha causato diversi allagamenti di strade e sottopassi come si può vedere da questi video che ci sono stati inviati da alcuni nostri telespettatori che chiaramente ringraziamo e ricordiamo anche il nostro numero di cellulare per le vostre segnalazioni vi ricordiamo che la protezione civile ha prolungato l'allerta gialla per temporali anche per tutta l'intera giornata di domani martedì 6 giugno per l'intero territorio regionale ma il tempo che nel weekend si era invece concentrato nell'entroterra ribadendo la necessità degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è questo l'appello lanciato ai nostri microfoni dal sindaco di Cantiano Alessandro Piccini dopo le ennesime frane registrate proprio in quel territorio frane, smottamenti e persino cavalli del Catria folgorati e uccisi dai fulmini del temporale a distanza di nove mesi l'incubo ma il tempo è tornato a bussare sabato alle porte di Cantiano e Cagli dove il caso più eclatante ha riguardato l'interruzione della strada Flaminia per una frana che continua a ripetersi periodicamente per il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini è l'ennesimo avvertimento e monito verso interventi drastici di mitigazione idrogeologica non più rimandabile quello che è accaduto sabato è la dimostrazione plastica che il nostro territorio non è ancora in sicurezza ecco questa frana che ha investito la Flaminia è una frana che era già successa quindi si è riproposta con ancora più forza da quel 15 di settembre quindi è ormai non più rinviabile questa azione di intervento di mitigazione del rischio che superi i vincoli della burocrazia delle formalità per mettere a terra in maniera urgente queste risorse perché come ripeto qui c'è in gioco l'incolumità dei cittadini su quella statale passano migliaia di macchine al giorno ed è stata una fortuna che la frana non ha travolto nessun automobilista quindi ripeto che qui c'è in gioco l'incolumità dei cittadini delle imprese e quindi è urgente che queste azioni queste risorse si traducano in una azione concreta ecco di mitigazione del rischio e che ci sia anche un accompagnamento forte da parte delle istituzioni lo stesso presidente della regione Marche commissario delegato gli assessori competenti affinché ecco si possa celermente dopo nove mesi dare una risposta a questi territori e non sono mancate nelle ultime settimane nemmeno le frane sul San Bartolo da ultima quella che sta limitando l'accesso alla frazione di Castel di Mezzo come si vede da queste immagini oggi sono però iniziate le procedure per riaprire il varco d'accesso a Fiorenzola di Focara dalla strada delle Siligate varco che è stato riaperto in sola entrata venendo da Pesaro e in sola uscita in direzione cattolica una riapertura particolarmente attesa dai residenti del San Bartolo grazie all'avanzato stato dei lavori della rotatoria che darà maggiore sicurezza alla viabilità delle Siligate altri lavori in questo caso completato sono quelli di piazza del municipio di Vallefoglia allora andiamo a vedere nel prossimo servizio i momenti dell'inaugurazione alza bandiera e inno di mameli preceduti da un rincorso taglio del nastro il 2 giugno a Montecchio di Vallefoglia è stato un momento sia di cerimonia ricorrente alla festa della Repubblica ma anche di inaugurazione della nuova piazza del municipio costruita a due passi dalla fresca sede comunale di via Rampi 4 un luogo centrale in un'area già ricca di servizi per la comunità di Vallefoglia una doppia festa perché l'inaugurazione di piazza del municipio che è la piazza di questa realtà della casa della salute delle scuole delle palestre ieri mattini i ragazzi hanno già collaudato i giochi d'acqua con un bagno diciamo che dà l'idea dell'inizio dell'estate quindi veramente tanta gente non ce l'aspettavamo siamo particolarmente contenti per la festa della Repubblica e anche per l'inaugurazione della piazza del municipio consegna della nuova piazza ai cittadini della vallata che è stata animata dalle note del corpo bandistico Giovanni Santi di Colbordolo dalla voce del coro i cantori della città futura e dalla sinuosità delle movenze del gruppo centro danza performance di Lisa Vergoni sotto il sole coccente rifletteva il bagliore dei 20 getti d'acqua zampillanti della fontana posta al centro della nuova piazza un arredamento che è stato completato da 9 panchine e da 24 punti luce per illuminare la nuova area nelle ore notturne e continuiamo a restare nella città di Vallefoglia città che piange la scomparsa di Fabrizio Bartolucci da tutti conosciuto come Bicio titolare fin dal 1986 della pizzeria La Voglia Matta Bartolucci è morto sabato pomeriggio all'età di 65 anni in seguito ad un malore che non gli ha lasciato scampo domani mattina alle ore 11 si terrà il funerale nella chiesa di Monte Gridolfo e vi ricordiamo che domani Rossini TV alle ore 21 trasmetterà in diretta l'appuntamento con 9 anni da sindaco di Matteo Ricci il primo cittadino incontrerà stampa e cittadini nel cortile dei musei civici per tracciare un bilancio su cultura infrastrutture sport turismo sostenibilità e futuro della città in caso di maltempo l'appuntamento si terrà al coperto del loggiato dei musei civici ed ora vi segnaliamo che Multiservizi sta effettuando nella zona mare di Pesaro lavori sulla rete di distribuzione dell'acqua per assicurare migliore qualità della risorsa idrica lavori che comporteranno l'interruzione dell'erogazione dell'acqua mercoledì 7 giugno dalle ore 8 alle ore 15 in Viale Fiume nel tratto compreso tra Viale Trieste e Viale Battisti e in Viale Trento nel tratto compreso fra Viale Gorizia e Viale Marconi ieri a Fanno si è conclusa la ventunesima edizione del brodetto festa la presenza tra gli altri anche del ministro dell'agricoltura e sovranità alimentare Francesco Rollobrigida che ha lodato il prodotto ittico fanese e ha assicurato massimo impegno nella tutela del settore pesca vediamo ventunesima edizione del brodetto fest a Fanno una manifestazione che quest'anno si è fatta conoscere anche in manifestazioni gastronomiche a livello internazionale con la presenza del brodetto alla fanese a Barcellona e a Londra in queste occasioni delle presenze molto importanti a livello istituzionale non soltanto regionale ma anche nazionale con il ministro Lollobrigida con il presidente della regione Acquaroli con il presidente della commissione agricoltura Mirko Carloni il brodetto è un grande prodotto che racconta come quella che viene definita cucina povera in realtà è una cucina ricca di qualità può portare benessere non solo in termini di gusto ma anche in termini di ricchezza per coloro che legano a queste produzioni la loro vita sono legati a queste da una passione che a volte la maggior parte gli viene tramandata dai propri genitori e vorrebbero regalarla ai loro figli ed è per questo che sono così legati intimamente al rispetto della sostenibilità ambientale che deve essere coniugata con la sostenibilità produttiva garantendo un tessuto che è particolarmente ricco e può produrre ricchezza il brodetto rappresenta una eccellenza marchigiana e dell'Adriatico che serve per promuovere il nostro territorio e promuovendo il nostro territorio promuoviamo le nostre peculiarità quelle autenticità che ci contraddistinguono che è frutto di una tradizione che noi dovremmo rivendicare piuttosto che nascondere e credo che ogni territorio che tende a nascondere la propria tradizione è un territorio che nega se stesso oggi noi siamo chiamati a dare delle risposte a queste piccole piccolissime e medie imprese che rappresentano in realtà il nostro tessuto imprenditoriale rappresentano le nostre autenticità proprio coloro che portano la nostra regione e il marchio Italia nel mondo e che vivono queste attività a momento di difficoltà perché combattono contro chi vorrebbe la cancellazione di questa produzione nei nostri luoghi per modelli di sviluppo e di produzione completamente differenti che prevedono lo smantellamento di eccellenze che non sono solo importanti per creare occupazione e dare diciamo alla filiera gastronomica una risposta importante ma sono importanti perché per il tramite di queste imprese sopravvivono i nostri mari sopravvivono le nostre colline sopravvivono le nostre valli e sopravvive un territorio intero io ho colto l'opportunità di questo festival anche per sostenerlo dal punto di vista dell'attività primaria che ci rappresenta perché senza la pesca non sarebbe esistito il brodetto ma certamente ha poco senso realizzare un prodotto tradizionale con del pesce che viene da altri paesi e rispetto a questo si apre una discussione fortissima in questo momento storico visto che l'Europa chiede allo Stato Italia come agli altri paesi membri di diminuire lo sforzo di pesca talvolta anche con modalità e un approccio ideologico che rischiano di penalizzare e mortificare l'attività della pesca c'è un rischio reale che non ci sia più il ricambio generazionale lo speciale della ventunesima edizione del Brodetto Fest andrà in onda su Rossini TV questo venerdì venerdì 9 giugno alle ore 21 e 40 dal buon pesce al buon vino le immagini che invece state vedendo si riferiscono al grande successo della terza edizione di Cali City che si è tenuta sabato a Pesaro con centinaia di persone che hanno degustato le eccellenze vinicole di 24 cantine della provincia nella nuova location di via Castelfidardo via Mazzolari e via Mazza un'edizione di Cali City che sarà a sua volta approfondita nello speciale realizzato da Nicoletta Tagliabracci che andrà in onda in questo caso giovedì 8 giugno alle 21 e 20 sono tanti gli eventi che abbiamo seguito in questo fine settimana e tra questi c'è anche Eco Fest un evento che appunto ha caratterizzato la magia di questo scorso fine settimana è un evento che vedrete su Rossidi TV mercoledì 7 giugno alle ore 20 ed ora però andiamo a vedere un estratto di Eco Fest appunto organizzato dalla Fondazione Oasi questa manifestazione incredibile questa Eco Fest straordinaria che mette a contatto le persone con la natura nel più puro nel più incontaminato dei territori ecco questo luogo che porta gli abbiamo dato un nome Oasi perché è veramente un'Oasi bellissima naturale ma è anche l'acronimo di organizzazione per l'ambiente sostenibilità innovazione sociale dove noi portiamo avanti tante iniziative nel rispetto della natura ecco quest'anno il tema dell'Eco Fest è rispetto per la vita sulla terra qui non è un luogo per fare eventi non è un luogo per venire a bere solo un aperitivo è un luogo dove poter venire a portarsi a casa ogni volta una sensibilità nel rispetto per il nostro pianeta è un posto magico già il Parco San Bartolo è tutto bellissimo ma questo è davvero un angolo incredibile vogliamo ringraziare Claudio Balestri per aprirlo per renderlo fruibile a tante persone qualche giorno all'anno e questa bellissima manifestazione che si ripete è davvero fantastica perché valorizza il nostro territorio lo fa sulla sostenibilità sull'ambiente lo fa attraverso tante iniziative culturali e gastronomiche di grande qualità quindi veramente è una bellissima manifestazione speriamo che duri ogni anno ed è un luogo nel quale davvero tante cose si possono fare sportive legate al benessere alla spiritualità è davvero un luogo magico devo dire che il parco San Bartolo negli ultimi anni è diventato sempre più un luogo del cuore per tanti pesaresi cittadini di questo territorio che ci vengono in bicicletta ci vengono a fare trekking utilizzano la domenica mattina senza auto per venire con i propri figli quindi sicuramente lo si ama di più è chiaro che questo è un luogo privato e quindi deve approfittare dei giorni in cui è aperto questo sicuramente in tanti ancora non lo sanno però vedo la partecipazione a questa manifestazione ogni anno cresce e quindi anche i pesaresi sicuramente cominciano a godersi come hai detto tu prima un angolo di paradiso l'estate è un calendario intenso il mercoledì il giovedì e la domenica ci saranno sempre attività di yoga meditazione attività sportive trekking nordic working notturno tutta una serie di attività che le possono vedere dal programma per dare sviluppare sempre questa sensibilità noi quello che diciamo alle persone anche il periodo autunnale è molto bello anche lì continuiamo noi abbiamo una piccola casetta perché qui gli spazi non possiamo costruire e non vogliamo soprattutto costruire quindi sfruttiamo ogni angolo che era preesistente prima lo abbiamo ristrutturato l'abbiamo sistemato e qui continuiamo a fare dei momenti di incontro abbiamo fatti per il riconoscimento delle erbe momenti culturali la lettura di un libro presentazione di un documentario ci sono veramente tante attività che daranno vita e continuano perché la fondazione non è solo momento estivo 365 giorni all'anno ci impegniamo nel rispetto per l'ambiente ci impegniamo anche a fare dei laboratori per i bambini a insegnare a far conoscere cosa sono le api come vivono abbiamo le casette per le api abbiamo la fattoria didattica abbiamo tanti spazi creato perché ci possa essere sempre un qualcosa che possa aiutare a veramente accrescere questa sensibilità dobbiamo avere rispetto dobbiamo mantenere il rispetto per la madre natura che è perfetta ha fatto delle cose incredibili che le vediamo l'essere umano a volte non è così perfetto e allora voglio davvero fare i complimenti a tutti gli organizzatori di questi bellissimi eventi sul nostro territorio eventi che se il bel tempo ci segue ci aiuta ce ne saranno tantissimi e si terranno ancora in questa prossima estate appunto nella nostra provincia di Pesaro Urbino invece adesso andiamo a ricordarvi un po' di appuntamenti per quanto riguarda la nostra tv questa sera appuntamento con la salute c'è capo obiettivo salute in questo format che è seguitissimo da tutti voi e questa sera c'è una nuova puntata si parlerà di attività fisica e lo faremo con il dottor Giovanni Stanzani che è kinesiologo alle ore 21 e 20 e poi subito dopo subito dopo vedremo appunto i racconti della generazione Z con Spazio Z e parleremo di Pesaro Rugby e quindi conosceremo i ragazzi di questo particolare sport e vi ricordiamo che domani vi aspetto nella nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini e il nostro appuntamento in diretta quindi vi aspetto alle 7 e 20 saremo in diretta sul canale 80 e anche sulla nostra pagina Facebook grazie mille come sempre per averci seguito seguiteci sui nostri social Facebook Instagram salvate il nostro numero di cellulare e mi raccomando scaricate la nostra applicazione vi sarà utile per quando andrete in vacanza oppure quando non sarete a casa grazie mille e buona serata grazie mille grazie mille